In primo piano, con la votazione del Senato e il reato di omicidio stradale, legge e soddisfazione da parte di ASAPS e amministrazioni locali. Nel Riminese, la cronaca sgominata, la banda della truffa, vittime donne anziane, tre persone denunciate dai carabinieri di Riccione. La cronaca nel Riminese, sgominata, la banda della truffa, vittime donne anziane, tre persone denunciate dai carabinieri di Riccione. Ed infine parliamo anche del meteo, perché nevicata di marzo, un'ondata di maltempo si è abbattuta anche sulla riviera. Ben ritrovati con la nostra informazione, dunque questi principali titoli del nostro telegiornale. In primo piano parliamo del reato di omicidio stradale che finalmente è legge soddisfazione da parte di ASAPS che da tempo spingeva perché il reato di omicidio stradale diventasse legge soddisfazione anche da parte delle amministrazioni locali, in particolare nel servizio curato da Marcello Bartolini. Diventa reato l'omicidio stradale. L'Aula del Senato ha infatti approvato la fiducia sul disegno di legge con 149 voti favorevoli, tre contrari e 15 astenuti per Lorenzo, per Gabriele, per le vittime della strada, per le loro famiglie. L'omicidio stradale è legge. Finalmente, scrive su Twitter il premio a Matteo Renzi, nel solo 2014, come ricorda l'ASAPS di Forlì, furono mille gli episodi di pirateria stradale con 119 morti, alcol e droga nel 19,6% dei casi. Con le nuove misure, dunque, l'omicidio stradale diventa un reato a sé graduato su tre varianti. In particolare, resta la pena già prevista oggi da 2 a 7 anni nell'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi, con le nuove regole, chi uccide una persona guidando in stato di ebrezza grave, con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi per litro o sotto l'effetto di droghe, rischierà da 8 a 12 anni di carcere. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni, l'omicida, il cui tasso alcolemico, superi 0,8 grammi su litro, oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità, eccesso di velocità, guida, contromano, infrazione ai semafori, sorpassi, inversione a rischio. La pena può però aumentare, della metà se a morire è più di una persona, in quel caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere. Ci piace ricordare che siamo stati i primi già dal 2003-2004 a parlare di omicidio stradale, commenta Giordano Biserni, presidente della situazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale. Siamo stati i primi a comprare il dominio www.omicidiostradale.it, che è stato il forziere del web per raccogliere e depositare le preziose firme per promuovere la legge, intelligentemente gestito dall'associazione Lorenzo Guarnieri, promotrice della proposta di legge con ASAPS e l'associazione Gabriele Borgogni di Firenze. Un percorso duro per Biserni, denso di ostacoli, lungo, ma oggi che il traguardo è stato raggiunto, la soddisfazione è veramente tanta. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie, che unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Oltre un secolo è passato dalla fondazione. Tanti cambiamenti sono avvenuti da quel 25 marzo 1911 ad oggi. Ma il suo spirito, una banca fatta dalla gente comune per la gente comune, è sempre lo stesso, attento alla collettività e presente nel sociale. Banca di credito cooperativo di Gradara, per lo sviluppo locale. La banca di casa tua. C'è un aggiornamento per quanto riguarda il servizio riguardo al reato di omicidio stradale. È diventato legge, c'è un commento dell'assessore del Comune di Rimini, Jamil Sadegolvada, assessore della sicurezza, che dice sì del Parlamento. Le nuove norme che trasformano l'omicidio stradale colposo in reato e a sé stante fa fare al nostro Paese un deciso salto in avanti in termini di giustizia, cultura e sensibilità davanti ai tanti, troppi drammi e tragedie che colpiscono purtroppo ogni anno la quotidianità di migliaia di persone. Chi si mette al volante sotto l'effetto di alcol e di sostanze stupefacenti oppure con l'intenzione palese di spingere sull'acceleratore la dove non si può sa perfettamente i rischi che fa correre per se stesso e per gli altri ed è questa aberrante consapevolezza la ragione prima dell'introduzione del reato in micidio stradale che finalmente allinea l'Italia. In un'Italia nella quale si diffama e calunnia le forze dell'ordine viene prontamente inviato a colloquio con le massime autorità dello Stato il segretario generale del SAP Gianni Tonelli al 43esimo giorno di sciopero totale della fame non è ancora riuscito a farsi ricevere né dal capo della polizia né dal ministro degli interni né dal presidente del Consiglio ad affermarlo in una notte il senatore Carlo Amedeo Giovanardi Gianni Tonelli prosegue ricevuto ieri la solidarietà di larga parte del Parlamento ed oggi purtroppo è stato ricoverato d'urgenza per un valore derivato alle sue precari condizioni di salute siamo affettuosamente vicini a Gianni Tonelli alla sua battaglia sindacale ben consapevoli dice il senatore delle responsabilità non soltanto morali che si assumono coloro che disprezzano gli uomini in divisa che dovrebbe invece essere il loro dovere difendere e tutelare e adesso la cronaca è stata sgominata una banda della truffa vittime donne anziane sono state denunciate tre persone dai carabinieri di Riccioni in particolare in questo servizio chiedevano soldi a persone anziane spacciandosi per degli avvocati incaricate di riscuotere cauzioni ma il gruppo di truffatori è stato scoperto dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Riccioni con l'accusa di truffa e ricetazione sono stati denunciati in stato di libertà tre napoletane di 33, 37, 40 anni già noti alle forze dell'ordine mercoledì sere i militari hanno fermato uno dei tre notato mentre passava a bordo di un'utilitaria lungo via Romagna Cattoli i carabinieri insospettiti dal suo atteggiamento durante il controllo lo hanno perquisito e nascosto nelle mutande i militari hanno trovato alcuni gioielli in particolare due fedi d'oro e una catenina con ogni probabilità si trattava di munili trafugati grazie anche ad accertamenti effettuati sulle banche dati è emerso che nella mattinata a Civita Nova Marche un'anziana di 78 anni era stata truffata la donna era stata contattata telefonicamente da un sedicente appartenente all'arma dei carabinieri che preannunciava il successivo arrivo presso la sua abitazione di un sedicente avvocato che avrebbe dovuto procedere a ritiro di munili o di denaro contante per una somma minima di 3.000 euro quale cauzione per il rilascio della figlia fintamente trattenuta per arresto l'anziana aveva consegnato quei gioielli nell'ambito delle operazioni carabinieri sono risaliti anche al residence di Cattolica in cui viveva un appartamento locato ai tre soggetti al suo interno sono stati trovati due ciondoli cinque catenine, due fedine, due medagliette e un anello tutto in oro alcuni di questi oggetti sono risultati bottino di una truffa fatta il giorno precedente con lo stesso stratagemma ai danni di un'anziana di 85 anni residente a Modena anche in quella circostanza il truffatore si era presentato dietro la falsa qualifica di avvocato e con il protesto di un pagamento dovuto per la cifra di 3.000 euro in relazione ad un finto sinistro statale partito dal figlio della vittima si era impossessato dei gioielli se la proposta di legge che introduce il reato penale di inquinamento processuale del pistaggio fosse stata approvata ai magistrati dei casi Regioni Borsellino potrebbero procedere anche per questo crimine nei confronti di chi svia le indagini per occultare la verità invece il reato ancora non esiste nel nostro codice penale grazie all'attesa biblica del Senato che dopo un anno e mezzo non l'ha ancora votato a dirlo è Paolo Bolognesi deputato del PD presidente dell'associazione 2 agosto 1980 primo firmatario della legge che definisce il depistaggio un crimine approvata dalla Camera il 24 settembre del 2014 e attualmente ferme in commissione giustizia del Senato i sei poliziotti indagati dalla procura di Caltanissetta per il depistaggio dell'inchiesta sulla strage di Via D'Amelio o chi si attiva per ostacolare l'indagine sulla morte di Giulio Regeni dice Bolognesi attualmente non sono perseguibili per depistaggio ma solo per il semplice reato di falsa testimonianza o soppressione e omissione di atti di ufficio il presidente Mattarella il presidente Grasso e il governo in occasione dell'anniversario del 2 agosto ricorda Bolognesi dissero che l'approvazione di questa legge era una priorità ed ora andiamo avanti allarghiamo lo sguardo alla regione Emilia Romagna e lo facciamo attraverso un report redatto da Union Camere che lancia dei segnali positivi per quanto riguarda l'edilizia le costruzioni sono in ripresa i particolari nel servizio è stato il grande ammalato della crisi il settore che più degli altri ha sofferto della recessione e che più ha faticato ad agganciare la ripresa ma per l'edilizia Emiliano Romagnola il periodo buio sembra essere finito il 2015 infatti si è chiuso con un aumento del volume d'affari dell'1,9% il primo dato positivo dal 2007 è quanto emerge dalla indagine sulla congiuntura delle costruzioni realizzata da Union Camere secondo le Camere di Commercio Regionali il trend positivo riguarda in particolare le piccole e medie imprese che hanno beneficiato degli incentivi per le ristrutturazioni della ripresa dei mutui per l'acquisto della prima casa e della ricostruzione post-sisma l'andamento è rimasto comunque negativo per le aziende con più di 50 addetti che hanno risentito delle restrizioni del credito e del calo della spesa pubblica attenzione però perché la crisi non è finita avverte Union Camere come testimonia la scomparsa durante lo scorso anno di 1.552 imprese per lo più ditte individuali la riduzione è più ampia tra quelle operanti nei lavori di costruzione specializzati ma molto più rapida per le attive nella costruzione di edifici un anno ancora difficile il 2015 che ha comunque visto crescere il volume d'affari dell'1,1% anche il minor ricorso agli ammortizzatori sociali segnala l'inversione di tendenza nel complesso è stata rilevata una flessione del 23,6% nell'uso della cassa integrazione rispetto al 2014 Negli ultimi tre anni c'è stata una crescita costante degli affidi familiari nella provincia di Rimini dai 143 del 2013 si è passati a 150 del 2014 fino a 166 del 2015 nello specifico nel corso del 2015 gli affidi familiari sono stati 118 nel distretto di Rimini Nord e 48 nel distretto di Rimini Sud per quanto riguarda l'età dei minori in affido la maggior parte è la maggior parte il 56% è compresa tra i 6 e i 14 anni il 25 tra i 15 e i 18 il 18% tra 0 e i 5 anni un dato importante è quello relativo al numero di famiglie che si rendono disponibili per l'affido se nel 2014 si legge nella nota sono state 15 nel 2015 ci sono più che raddoppiate arrivando 36 la maggior parte delle famiglie si sono rivolte ai servizi dopo aver contattato le tante associazioni di volontariato che nel riminese si occupano di affido come l'associazione Papa Giovanni XXIII e Famiglie per l'Accoglienza che organizzano anche due corsi di formazione all'anno e aver frequentato i loro corsi bene adesso parliamo parliamo del maltempo lo avete visto anche nei nostri titoli l'inverno che torna a farsi sentire in questi primi giorni di marzo con una nevicata un'ondata di maltempo che si è abbattuta anche sulla riviera in particolare nel servizio rispettate le previsioni medio con buona pace di chi già pensava alla primavera oggi la riviera si è risvegliata con un brusco callo delle temperature forte vento e da metà giornata pure neve e nevischio anche a quote bassa il rapido transito di un minimo depressionare sulla nostra regione ha sostitato all'eruzione di aria fredda in quota ha determinato un forte crollo della colonina di mercurio con le precipitazioni che si sono trasformate temporaneamente in neve anche in pianura una fitta nevicata che ha preso a cadere poco dopo le 13.30 tratti anche con grande intensità poco più che uno spettacolo coreografico la nevicata senza cumule ha poi lentamente rallentato il proprio impulso fino ad assumere carattere di pioggia segnalata qualche difficoltà in autostrada sulla 14 nel tratto tra Forlì e Riccione a Rimini la diminuzione è stata di oltre 10 gradi in poche ore dai 12,9 delle 3 all'1,2 gradi delle 14 tutto secondo quanto previsto dall'allerta della protezione civile il maltempo è stato accompagnato da forti raffiche di vento con punte di quasi 70 km orari nevicate sui 500 metri di altitudine mentre nella zona di pianura e nella pedemontana le precipitazioni hanno assunto carattere di acqua mista a neve nelle prossime ore è previsto un'attenuazione dei fenomeni venerdì il servizio meteorologico dell'ARPA prevede al mattino generale tra i condizioni di cielo sereno con addensamenti sui rilievi romagnoli dove non si esclude qualche debole precipitazione nel pomeriggio atteso un aumento della nuvolosità alta e sottile le temperature minime sono previste in diminuzione con valori compresi tra i 2 e 5 gradi mentre le massime in rialzo con valori attorno ai 12 gradi la permanenza di un'ampia area depressionale sul bacino del Mediterraneo manterrà condizioni di instabilità anche nei prossimi giorni si attende un fine settimana con nuvolosità irregolare alternata a piogge nevicati oltre i 1000 metri le temperature oscilleranno intorno alla vita del periodo bene andiamo avanti adesso per le altre notizie invece passo la linea a Marcello Bartolini a te si grazie Gianluigi gli aggiornamenti dalla redazione con la cronaca è stato individuato è stato stamane dai carabinieri di Viserbe il responsabile della tentata rapina avvenuta al salone di parrucchiera lo scorso 11 febbraio in via Missirini erano da poco passate le 13.30 quando tre settimane fa un individuo entrò nel salone dopo aver minacciato una dipendente intimandole di consegnare l'incasso era fuggito per l'arrivo di alcune colleghe della malcapitata i carabinieri intervenuti allora sul posto acquisirono importanti testimonianze dai presenti da alcuni negozianti che si trovano nei pressi per confermare l'identità dell'uomo è stato però fondamentale facebook attraverso il quale la vittima è riuscita a riconoscere il volto del rapinatore infatti i dovuti riscontri i militari dell'arma hanno identificato con certezza l'uomo si tratta di una 32enne riminese ora si trova agli arresti domiciliari su decisione del giudice osservati speciali dalla guardia giurata sono stati bloccati non appena hanno varcato l'uscita pensavano di averla evidentemente fatta franca dopo aver passato le casse con alcuni generi elementari ma poco prima erano stati sorpresi a trafugare tra gli scaffali diversi profumi nei guai sono finiti così due cinquantenni campani a Forlì per motivi di lavoro l'episodio si è consumato nella prima serata di mercoledì intorno a 19 al Conad Rivaldino per uno dei due sono scattate le manette bloccato dal vigilante infatti ha opposto resistenza gli agenti del volante della questura di Corso Garibaldi l'hanno arrestato con l'accusa di rapina mentre il complice che non ha alzato le mani è stato denunciato a piede libero per furto stamane si è svolto il processo per direttissima l'imputato è stato condannato a dieci mesi di reclusione appena sospesa la refurtiva per un valore di circa 50 euro è stata recuperata e restituita ai possessori meglio agli aventi di ditto naturalmente in questo caso non c'è altro con gli aggiornamenti dalla redazione Gianluigi ti restituisco la linea sì grazie Marcello andiamo avanti con il giornale c'è una notizia adesso che riguarda il caso la crisi della società Rimini calcio c'è una dichiarazione dell'assessore allo sport del comune di Rimini Gianluca Abrasini che sottolinea come l'amministrazione comunale si debba impegnare e si possa attivare per salvare il settore giovanile uno degli aspetti più pesanti da sopportare legati alle complicate infelici vicende finanziarie che ciclicamente coinvolgono le società sportive professionistiche di vertice è il fatto che a pagarne le spese il più delle volte sono i più piccoli quelli che il pallone dice Brasini lo vivono ancora come una semplice appagante passione e l'inaridimento del settore giovanile dell'attività di base di qualunque pratica sportiva è un colpo letale per la comunità per la sua coesione sociale per la capacità di interagire e integrare per questo va raccolto con attenzione massima l'SOS riguardante il futuro prossimo del settore giovanile della principale squadra calcistica di Minese oggi in condizioni grave e precarie tanto che anche la stagione in corso potrebbe detta gli stessi protagonisti interrompersi bruscamente a brevissimo un rischio palesato pubblicamente dal responsabile del settore giovanile Walter Sapucci dice Brasini che ha paventato la possibilità concreta di dover sospendere l'attività già nelle prossime settimane ed infine parliamo del meeting di comunione e liberazione perché è stato presentato il nuovo manifesto in particolare nel servizio un tu scritto in punta di penna a ricordare che tu sei un bene per me è l'idea grafica di Piero Casalucci che ha ispirato il manifesto 2016 del meeting per l'amicizia tra i popoli che si terrà a Rimini in fiera da venerdì 19 a giovedì 25 agosto un appunto che qualcuno ha voluto incidere sulla propria agenda su un pezzo di carta sul proprio diario oggi sempre di più l'altro il diverso ciò che fuori appare come una minaccia viene visto e considerato in un'ottica per lo più strumentale utilitaristica in queste drammatiche circostanze Papa Francesco ha indetto il giubileo straordinario della misericordia misericordia della legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri fratello che incontra nel cammino della vita misericordia è la via che unisce Dio e l'uomo perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato oggi presentiamo il manifesto del 37esima edizione del meeting tu sei un bene per me un titolo essenziale che vuole centrare sul tu sul fatto che abbiamo intorno ognuno di noi ha intorno decine centinaia migliaia di tu oggi viviamo in un tempo in cui questi tu è come se fossero una minaccia un pericolo una diversità da evitare ma nel fondo del cuore dell'uomo io credo che esista invece proprio la percezione che questi tu non possono non essere amati e non essere incontrati e il meeting di quest'anno vuole rilanciare questa provocazione tu sei un bene per me è un'esperienza da riguadagnare da riguadagnare al proprio cuore da riguadagnare alla propria intelligenza forse anche questo che ci ha spinto ad affidare il titolo del meeting di quest'anno a un poeta a uno scrittore a Luca Doninelli Bene il giornale termina qui vi ricordo come sempre che l'edizione del TG può essere rivista andando online collegandosi al sito www.telerimini.it Bene con questo è tutto grazie e come sempre per l'accortezza e l'attenzione dell'appuntamento domani www.telerimini.it